Salve a tutti. In questa lezione esamineremo brevemente le popolazioni che abitavano nel continente americano, quando arrivarono Colombo e gli altri esploratori, poi vedremo come gli europei abbiano organizzato questi territori e infine vedremo le conseguenze di questi viaggi di esplorazione. Cominciamo descrivendo brevemente il continente americano nella prima metà del 1500. Cristoforo Colombo, come abbiamo già visto, effettuò quattro viaggi venendo a contatto con popolazioni dall'organizzazione sociale semplice. Vivevano questi indigeni in villaggi, avevano un'economia di sussistenza basata sull'agricoltura, la caccia e la pesca. Nei viaggi, soprattutto nei viaggi successivi al primo, egli cercò di organizzare questi primi insediamenti sfruttando le risorse agricole e minerarie di questi territori per poi ripagare in qualche modo la corona spagnola degli investimenti effettuate per costituire anche delle basi per ulteriori esplorazioni. Dopo di lui sbarcheranno, come vedremo anche altri europei, che verranno invece a condatto con civiltà più evolute, come quella degli aztechi, dei maya e degli ingas. Gli aztechi e i maya avevano dato vita a due civiltà molto sviluppate. Gli aztechi abitavano sugli altipiani del Messico, i maya, nell'attuale Guatemala e nella penisola dello Yucatan. Gli ingas invece vivevano nel territorio che oggi si estende dalla Colombia fino al Cile. In questa cartina possiamo vedere complessivamente i territori abitati da queste popolazioni. Passiamo al punto 2. I conquistadores. Fin dalla prima spedizione di Colombo l'obiettivo della corona spagnola che vi aveva investito molti soldi era quello di trovare oro, pietre preziose e spezie di cui si credeva che quei posti fossero ricchi. Credenza che spinse molti europei, soprattutto spagnole, a trasferirsi in quelle terre inesplorate. Ma i primi esploratori rivelarono che di oro ce n'era sì, ma non nelle quantità immaginate. Per questo furono organizzate altre spedizioni esplorative alle quali parteciparono avventurieri, nobili, impoveriti, soldati, marinai, agricoltori, in maggioranza spagnoli, per trovare quell'oro che avrebbe dato una svolta economica alle loro. Nacque così il fenomeno dei conquistadores, avventurieri senza scrupoli, che andavano in questi territori spinti, attratti dal desiderio di far fortuna, in un posto che vedevano come l'Eldorado, letteralmente il mondo fatto d'oro. In quel periodo molti infatti erano convinti che esistesse un misterioso territorio in cui il sovrano possedeva palazzi e suppellettili, tutti d'oro. Si trattava di un luogo immaginario chiaramente, ma all'epoca ci credevano così tanto che partivano con l'idea di trovarlo. Oggi il termine indica un luogo fantastico, un luogo leggendario. Questi conquistadores venivano inviati e finanziati dalla corona spagnola che li selezionava attraverso la casa decontratazione della Sindias, per evitare che vi si infiltrassero eretici, ebrei o musulmani, e questo perché, come vedremo, uno degli obiettivi, almeno di facciata, era quello dell'evangelizzazione, cioè di portare il Vangelo a queste popolazioni pagane. Di conquistadores ce ne furono tanti, ma vediamo i più famosi. Cominciamo da Hernán Cortés che nel 1519 sbarcò nello Yucatán dove abitavano gli Aztechi, governati dall'imperatore Montezuma, e grazie all'uso delle armi da fuoco, dei cani addestrate alla guerra e dei cavalli, riuscì a raggiungere la capitale Tenochtitlan. L'imperatore, come si può vedere anche in questo disegno del XVI secolo, accolse Cortés con tutti gli onori nel suo palazzo, anche perché inizialmente gli spagnoli furono interpretati come emissari di una delle principali divinità azteche. Successivamente scoperti i contrasti tra i popoli sottomessi. Infatti da una parte di quelle popolazioni l'imperatore esigeva tributi in termini di tassazione di vittime sacrificali. Scoperti questi contrasti, Cortés ebbe buon gioco nel proporsi come riparatore dei torti per conto dell'imperatore Carlo V e del XVI. Insomma, nell'agosto del 1521 Cortés riuscì a conquistare la capitale Tenochtitlan ponendo fine all'impero azteco. Tra il 1524 e il 1546 Francisco de Montego sottomise l'impero, il territorio dei Maya e mentre tra il 1531 e il 1536 Francisco Pizarro e Diego de Almagro sottomisero l'impero degli Incas nella parte del Perù, con pochi uomini anche qui e ma con cavalli sfruttando a proprio vantaggio anche una lotta dinastica scoppiata all'interno del regno degli Incas. Tra il 1535 e il 1537 Diego de Almagro tendò in vano la conquista del Cile che fu poi realizzata da Pedro de Valdivia. Insomma, la fame poi di oro e di potere provocò spesso anche lotte fra questi stessi conquistadores, al punto che alcuni di essi si affrontarono militarmente. Una cosa che vale la pena di sapere è come mai un pugno di uomini riuscì a sottomettere intere popolazioni. Quali furono le cause del successo? La risposta è semplice. Gli spagnoli riuscirono a prevalere facilmente negli scontri grazie alla superiorità negli armamenti utilizzati. Oltre alle spade, infatti, utilizzavano armi da fuoco sconosciute agli indigeni ma anche cani da guerra ben addestrati e i cavalli. Inoltre spesso vi erano divisioni all'interno di queste popolazioni locali, condentativi di una fazione, diciamo così, di rovesciare il sovrano, divisioni che poi furono sfruttate da qualche conquistador facendo credere alla fazione ribelle che l'avrebbe aiutata nello scopo. Ovviamente si trattava di un inganno per portarla a combattere. E passiamo al punto 4, l'organizzazione coloniale degli spagnoli. A questo punto la Spagna, resasi conto che la situazione poteva sfuggire al suo controllo, facendo diventare quindi questi conquistadores autonomi nel governo di quei territori, decise di intervenire direttamente regolando i commerci con quei territori e il loro governo. Fu creato perciò nel 1524 il Consiglio Supremo delle Indie, un organo con autorità amministrativa, giudiziaria ed ecclesiastica. La corona incorporò i nuovi territori all'interno del suo dominio, ritirando quindi l'autorità concessa a Cristoforo Colombo prima e ai conquistadores dopo, ristabilendo in questo modo il controllo diretto attraverso funzionari fidati che dovevano riportare l'ordine soprattutto in merito allo sfruttamento delle risorse. Ma non bastò. I conquistadores continuarono comunque a considerarsi padroni delle terre conquistate con l'unico obiettivo di trovare oro e argento, obiettivo mascherato dietro l'alibi della diffusione della religione cristiana fra gli indigeni. E potevano farlo anche perché giuridicamente erano autorizzati dal re spagnolo che aveva concesso loro quella che si chiamava un'engomienda, che in italiano possiamo tradurre con la parola affidamento o concessione. Si trattava di un'istituzione giuridica con la quale il sovrano affidava ad un engomendero alcune terre da colonizzare e sfruttare, potendo in queste terre esercitare il potere più assoluto, potendo obbligare gli indigeni a lavorare e a pagare tributi. L'unico impegno dell'engomendero era quello di versare al sovrano spagnolo una percentuale delle rendite e di convertire al cristianesimo quelle popolazioni. Era praticamente una specie di feudo nel quale le popolazioni locali erano di fatto consegnate nelle mani rapaci dei conquistadores. Poi c'era il repartimento, letteralmente significa distribuzione. Con questo sistema gli engomenderos potevano reclutare indigeni anche fuori dalla propria ingomienda per farli lavorare per un periodo nelle loro piantagioni o miniere. Grazie a questo sistema questi conquistadores riuscirono a sfruttare gli indigeni prima nella ricerca dell'oro, di oro e argento nelle miniere e poi quando ci si rende conto che non c'erano tutte le quantità che si pensava si passò alla coltivazione di piantagioni di canna da zucchero, poi di caffè, tabacco, cacao che avevano un'alta resa in quei climi, coltivazione nella quale venne utilizzata la popolazione locale in regime di schiavitù. E qui arriviamo adesso a questa cartina. Perché questa cartina? Perché ad un certo punto gli indigeni cominciarono a morire a causa delle brutali condizioni di lavoro e delle malattie portate dagli europei e allora per sopperire a questa diminuzione si ricorsa gli schiavi africani che furono venduti generalmente dai portoghesi, dato che l'Africa ricadeva sotto la giurisdizione del Portogallo secondo quando stabilito nel trattato di Tordesillas. I neri sembravano più vigorosi e resistenti alla fatica rispetto agli indios. Fu così che tante carovane di schiavi partivano dall'Africa in catene e in fila indiana. Si imbarcavano per raggiungere il continente americano, poi stipati nella stiva, in catene, malnutriti, in pessime condizioni igieniche, tra il 50 e il 70 per cento di essi non arrivava a destinazione. La maggior parte di queste persone moriva, insomma. Giunti poi nel continente americano erano venduti in vere e proprie aste al migliore offerende. Questo fenomeno ci spiega come mai oggi il continente americano, nel continente americano ci sia una forte presenza di neri. Solo negli Stati Uniti questa percentuale si aggira attorno al 12%. Abbiamo già accennato prima alle malattie portate dagli europei che causarono una vera e propria strage. Gli europei che arrivavano in questi territori portavano con sé anche epidemie come il vaiolo, la peste, la malaria, che provocarono una strage dal momento che gli organismi degli indigeni non avevano anticorpi. Per rendersene conto basta pensare che se prima dell'arrivo dei colonizzatori gli abitanti del continente complessivamente erano 80 milioni circa, dopo una cinquantina d'anni risultavano solo 15 milioni circa, comprese europee ed africane importati. Il Messico qui, possiamo vederlo qui, il Messico per esempio nel 1519 aveva 25 milioni di abitanti, agli inizi del 1600 appena un milione. E andiamo adesso a vedere la colonizzazione, l'organizzazione coloniale dei portoghesi. Il Portogallo seguì una strada diversa da quella spagnola, mirò infatti più al controllo delle rotte marittime e degli scali commerciali lungo le coste, evitando di spingersi all'interno dei territori per occuparli. Questa scelta poi fu dettata da due motivazioni. Il Portogallo era un paese piccolo, poco popolato e relativamente povero, perciò non era in grado di dominare e popolare questi vasti territori. Inoltre non era facile in Africa era sia cacciare definitivamente i mercanti arabi e i turchi ottomani anche, che da quei territori traevano le loro ricchezze. Portoghesi fece recezione nel Brasile, il Brasile più assoggettabile, dove i portoghesi cercarono di imitare gli spagnoli occupandone il territorio, che fu poi diviso in dodici capitanie, affidate ciascuna a un donatario. Cambiava il nome, ma si trattava di un istituto molto simile all'engomienda spagnola.